Qui Gerry Grassi, psicologo e psicoterapeuta. Oggi parliamo di paura. Ancora una volta andiamo a comprendere meglio il funzionamento della paura, le varie tipologie di paura presenti nell'Atlante delle emozioni di Ekman e andiamo quindi a vedere un pochino meglio alcune sottocategorie che ci possono essere utili per affinare la nostra comprensione, la nostra consapevolezza rispetto al funzionamento della paura e alla fine di questo video vedremo anche un modo che si utilizza solitamente nella terapia che io utilizzo con i miei pazienti per iniziare a disinnescare la paura. In questo grafico potete vedere in basso la linea dell'intensità, quindi un'intensità minima e un'intensità massima andando verso destra. Il grado più basso di paura in questo studio viene chiamata apprensione, nella sua massima espressione viene chiamato terrore. L'apprensione ovviamente è un'anticipazione della possibilità di qualche pericolo che può o che potremmo in qualche modo incontrare nel nostro cammino e quindi genera noi questo basso livello di paura. Successivamente possiamo parlare di nervosismo, quindi un'incertezza sul fatto che ci possa essere effettivamente un pericolo. Passiamo poi all'ansia, quindi la paura di una minaccia reale o qualcosa che noi presumiamo che possa succedere nella nostra vita che potrebbe farci in qualche modo perdere il controllo. O potremmo anche aver paura di non riuscire ad affrontare quello che sta arrivando. Successivamente passiamo al timore, quindi la previsione di un grave pericolo. Disperazione, quindi una reazione legata all'incapacità di ridurre questo pericolo che effettivamente sta arrivando. L'orrore, un misto di paura, disgusso e shock emotivo. Panico, paura incontrollabile, improvvisa, paura di perdere il controllo, paura di morire. Il famoso attacco di panico è una declinazione di questo livello di intensità della paura. E infine il terrore, quindi una paura intensa e totalmente opprimente. Ecco, questa è la scala dell'intensità della paura che noi possiamo incontrare. Ovviamente questa è la denominazione, la nomenclatura che è stata utilizzata da Ekman in questo studio e che ci può servire per capire intanto che ci sono tante sotto sfaccettature della paura, quindi non c'è soltanto l'ansia che utilizziamo diciamo come parola in maniera abbastanza costante e continua nel nostro linguaggio comune. Non c'è soltanto il panico, l'attacco di panico, ma come vedete in mezzo ci sono tante altre cose. Può essere che nel linguaggio comune utilizziamo alcune di queste parole attribuendo a questi termini un significato diverso. Ad esempio, personalmente la parola timore è qualcosa che per me, se avessi dovuto fare io questo grafico, l'avrei messa più vicina all'apprensione, quindi qualcosa di un pochino più lieve. Però evidentemente in questo studio hanno reputato di dare questo tipo di denominazione a questo livello, a questa intensità della paura. Cosa possiamo quindi fare per ognuna di queste declinazioni? Andiamo un attimo a vedere quelle che sono le possibili reazioni che arrivano dalla sensazione, dall'emozione della paura che stiamo provando a questo tipo di livello. Quindi per l'apprensione può esserci un esitare, un preoccuparsi, un rimuginare. Queste che in qualche modo sono delle reazioni, in termini psicoterapici potremmo chiamarle in certi casi anche delle reazioni, ma anche delle tentate soluzioni che noi in qualche maniera mettiamo in atto per cercare di ridurre l'emozione che stiamo percependo. Nel nervosismo abbiamo lo stesso tipo di possibilità reattive, nell'ansia si aggiungono anche l'allontanarsi, quindi la fuga e la paralisi che sono due reazioni ancestrali, arcaiche che appartengono ovviamente all'essere umano da sempre e che sono tipicamente menzionate nel momento in cui andiamo a parlare di paura. Quindi quando abbiamo paura si dice che una persona tende a fuggire, scappare o anche paralizzarsi, quindi rimanere frizzata come si dice in gergo. In quello che viene chiamato timore ci sono anche delle reattività come appunto rallontanarsi, preoccuparsi, rimuginare, urlare e strillare. Nella disperazione viene menzionato proprio l'evitamento, quindi una tipica tentata soluzione che in qualche modo finisce poi per peggiorare le cose. Come sappiamo, per chi di voi mi segue sa che l'approccio che utilizzo tiene molto in considerazione. Uno dei pilastri fondamentali dell'approccio è proprio andare ad analizzare quelle che sono le tentate soluzioni che mettiamo in atto per cercare di risolvere un problema e che non solo non lo risolvono ma finiscono per peggiorarlo. Nell'orrore si riducono queste tre, quindi allontanarsi, paralizzarsi, urlare e strillare. Nel panico vediamo che c'è rimuginare, preoccuparsi, paralizzarsi, allontanarsi ancora una volta e nel terrore si riducono ancora una volta e sono queste tre le reazioni principali, quindi la fuga, l'allontanarsi, il paralizzarsi, l'urlare e lo strillare. Quindi essendo così forte, diciamo così, la sensazione e l'emozione provata, si riducono un po' in questo caso le possibilità di reazione, quindi la reattività. Quali sono nella paura, quindi in generale, in tutta la scala delle cose che hanno appunto a che fare con la paura, le tentate soluzioni che tipicamente vengono messe in atto da una persona che ha paura, tipicamente sono il parlare di questo problema, l'evitare determinate situazioni, quindi non andare in certi posti, non frequentare certe situazioni, cercare di evitare lo stimolo fobico, qualsiasi esso sia, lo stimolo fobico potrebbe essere un posto, potrebbe essere un oggetto, potrebbe essere un animale, potrebbe essere una persona, potrebbe essere anche un pensiero in certi casi. Comunque cercare di evitare è una tentata soluzione disfunzionale, quindi evitare, prendere delle precauzioni, non affrontare determinate situazioni, parlare del problema, tutte queste cose sono tentate soluzioni disfunzionali, ossia tentativi di risolvere la situazione che ognuno di noi mette in atto ma che sistematicamente finiscono non solo per non risolvere il problema ma per peggiorarlo ulteriormente e quindi è molto importante che ognuno di noi mette bene a fuoco quelle che sono le tentate soluzioni perché poi nella terapia cos'è che viene fatto? Vengono sovvertite, quindi andiamo a sovvertire le tentate soluzioni, come lo facciamo? Attraverso degli esercizi nel caso della terapia strategica, quindi poi nel caso dell'ipnosi disfunzionale facciamo altre cose, ma insomma è più comprensibile, diciamo così, più semplice da comprendere l'approccio della terapia strategica e quindi faccio maggiormente riferimento a quello perché nell'ipnosi scattano dei meccanismi anche inconsci che sono più complessi da essere spiegati in maniera semplice e comprensibile per tutti. Quindi cosa si fa per sovvertire una tentata soluzione? Andiamo a far sì che la persona gradualmente si esponga e gradualmente affronti le proprie paure. All'inizio facciamo una serie di esercizi diciamo così in palestra tra virgolette, quindi la persona a casa fa una serie di esercitazioni che fanno sì che il suo cervello, la sua reattività, il suo sistema percettivo reattivo si dispongano in una certa maniera, quindi si rafforzano. È un po' come fare una palestra psicologica, facciamo rafforzare psicologicamente il muscolo in modo che la persona poi sia pronta a fare degli esercizi più evoluti, più avanzati e quindi che andare ad affrontare lo stimolo fobico non sia più un problema. Cosa che ovviamente all'inizio della terapia per la persona è complicato perché se è una persona che ha paura di volare e io gli dico ok vai e vola, quello mi dice grazie lo sapevo anche da solo, se fossi in grado di farlo ci sarei andato. Quindi facciamo prima una preparazione psicologica che però ha dei correlati anche neurologici, dei correlati biologici, dei correlati neuronali, quindi andiamo a cambiare attraverso degli esercizi le reazioni davanti a determinati stimoli. Una volta che la persona è più confidente nei confronti di se stessa, è più forte, è più sicura, allora andiamo a sbloccare il meccanismo tramite degli esercizi più avanzati come ad esempio la famosissima Worst Fantasy, la peggiore fantasia, l'esercizio che è stato presentato da Giorgio Nardone e che è stato descritto in tantissimi dei suoi libri. Io stesso ho ripreso questo esercizio dando un altro nome, ma sostanzialmente l'esercizio è lo stesso, io l'ho chiamato Stanza 101 nel mio libro Sostima Fai da Te, ma insomma quella è la tecnica, la tecnica che deriva dall'approccio paradossale della scuola di Palo Alto in cui andiamo a chiedere al paziente per assurdo di stare ogni giorno in una stanza e per mezz'ora cercare di indursi volontariamente una condizione di panico, una condizione di paura, andare a cercare di esasperare la propria paura. Così facendo la persona scoprirà che scatterà un meccanismo paradossale che gli permetterà di disinnescare la propria paura. So che può sembrare molto strano per chi non è avvezzo a pensare in questi termini, so che può sembrare una tecnica appunto strana, in effetti lo è, è una tecnica di tipo paradossale quindi ovviamente è strana e risulta strana soprattutto nella nostra società occidentale in cui tendiamo a, come dire, vedere le cose in un'ottica maggiormente lineare. In Oriente sono maggiormente orientati a guardare le cose, a descrivere i fenomeni, a utilizzare la realtà, osservare la realtà usando anche delle logiche non lineari, quindi sono più avvezzi ad usare il paradosso, ad esempio nelle arti marziali io sono cintura nera di judo, ho fatto per tanti anni di judo e so che uno degli insegnamenti a usare la forza dell'attacco dell'avversario che per assurdo è un paradosso, quindi io devo usare la forza dell'attacco per rivoltare l'attacco che mi viene fatto contro la persona che mi sta attaccando e quindi usando appunto anche in questo caso una tecnica di tipo paradossale. Tutto ciò viene applicato anche all'interno della terapia con queste tecniche un po' particolari che ovviamente non ti suggerisco di applicare visto che sono tecniche di psicoterapia che ti devono eventualmente essere somministrate e prescritte da uno psicoterapeuta che ti segue e che ti sta aiutando a risolvere il tuo problema, ma è giusto che tu sappia che esistono anche degli esercizi di questo tipo che sono veramente molto potenti e che permettono in tempi anche veramente molto molto brevi di disinnescare completamente disturbi molto invalidanti come ad esempio gli attacchi di panico che sappiamo benissimo essere una delle cose più terrorizzanti per le persone che li sperimentano. Spero che questo video ti sia servito, spero che potrà servire anche delle persone che magari tu conosci che hanno avuto problemi relativi alla dimensione della paura che poi fosse panico, che fosse timore, che fosse una fobia o altro e magari questo video potrà essere utile a queste persone. Scrivimi cosa ne pensi o nei commenti o in direct e noi come al solito ci vediamo nel prossimo video. Grazie a tutti.